buongiorno walkers sono le 6 e 40 di mattina e adesso andremo a prendere due nostri amici per partire per il gran sasso sonno lui è marco grande camminatore è la prima volta che sale sul gran sasso io la seconda lui è francesco è espertissimo dell'appennino centrale le strade di roma le strade di campo imperatore quello si è il gran sasso quanto è alto il gran sasso quasi 3.000 metri e io sono in canotta e fanno i 15 gradi è l'humber magic sono nove e mezza pensavamo di trovare un chioschetto aperto per mangiare niente osservatorio gran sasso rifugio duca degli abruzzi allora stiamo andando sul gran sasso questo video faranno tipo tutti comunque ragazzi è sempre uno spettacolo guardate che che roba sembra una di quelle scenografie usate per per le pubblicità delle macchine adesso noi andremo in questo intero lì questo sulla sinistra però ti fa capire sali direttamente sulle rocce ecco la cima un panino col salame fila 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 e da quanto tempo siete in fila da un'ora anche sulle rocce ecco la mano